La testa rivolta solo al Lanciano. Le voci di un addio lampo di Pietro Iemmello sono state cancellate dalle parole dell'attaccante, riportate ieri sera sul sito ufficiale della società. Ho scelto di giocare in Serie B con il Lanciano ed oggi il mio pensiero è rivolto al campo e alla squadra in cui gioco. Questi alcuni passaggi delle parole del centravanti, che nei giorni scorsi era dato come pronto a tornare in Lega Pro a Foggia, dove aveva giocato lo scorso anno. Sarebbe mancato l'accordo tra la società Dauna e lo Spezia, che quindi lo ha girato in prestito alla Virtus, resistendo a ulteriori tentativi del Foggia. Il reparto d'attacco così è ricco di elementi e qualcuno dovrà partire. De Silvestro o Di Benedetto sono gli indiziati principali. Per il ruolo di portiere in stand-by Cragno, dopo il nome di Pomini, le attenzioni del DS Leone si sono concentrate su un giovane di belle speranze. Si tratta del Laziale Guido Guerrieri, classe 96. L'asse con la Lazio è comunque forte, come dimostrano le ultime operazioni in entrata messe a segno della Virtus, Luca Crecco e Antonio Rozzi. Il primo centrocampista classe 95 viene da una buona stagione con la Ternana. Ho scelto Lanciano perché ho visto che era una squadra che mi voleva fortemente e ho visto che c'era un progetto con i giovani. Mi è piaciuto e quindi ho scelto di venire qui. Diciamo che sono un giocatore di corsa, non tanto di tecnica. Mi piace infilarmi sullo spazio e sulla fascia. E in cerca di riscatto l'attaccante Mancino classe 94, Antonio Rozzi. Conoscendo anche altri ragazzi che sono di qua e hanno fatto questa esperienza, dove è stato anche un trampone di lancio per molti ragazzi, e ho pensato comunque di venire qui proprio per questo motivo perché comunque è una bella realtà dove si ha la possibilità anche per i giovani di esprimersi e con la speranza e la volontà di fare il meglio.